Musica Questa mattina alle ore 12 le spoglie di Padre Pio, dopo aver lasciato Roma e il Vaticano, dove ha avuto la lunga ostensione per il Giubileo, arriveranno a Pietralcini, nel suo paese natale. Ci vediamo tra cent'anni, avrebbe detto il santo di Pietralcina, cento anni fa, esattamente il 17 febbraio del 1916, prima di lasciare il suo paese per sempre, ed effettivamente la profezia si è avverata. L'aneddoto è raccontato dal giornalista Raffaele Iaria nel volume Padre Pio, quei giorni a Pietralcina, in cui ripercorre la fase iniziale della vita del santo Frate Cappuccino, dalla nascita alla formazione, alla vocazione religiosa, alle stimate, fino alla partenza definitiva, prima per Foggia e poi per San Giovanni Rotondo, dove Padre Pio visse 52 anni della sua vita. L'orna con il corpo di Padre Pio, che Papa Francesco ha voluto nella Basilica Vaticana, insieme a quella con le spoglie di San Leopoldo Mandic, per l'inizio della quaresima del Giubileo straordinario della misericordia, si ferme la Pietralcina, quindi dall'11 al 14 febbraio, prima di far ritorno a San Giovanni Rotondo. Ormai in Italia tutti stanno salendo sul caso di Matteo Renzi. In Puglia basti pensare al caso Bicelli, è iniziata la transumanza verso il centro-sinistra. Questo è il commento del presidente del Consiglio Comunale di Foggia ed esponente di spicco di Forza Italia, Luigi Mirano. È un male italiano, la gente si sposta laddove c'è il potere e questo è evidente. Noi siamo governati a livello regionale da un forte governo di centro-sinistra, a livello nazionale da un governo di centro-sinistra e in questo momento è la cosa più comoda di spostarsi a sinistra. Forza Italia si sta sfaldando un po' ovunque, a Bari non è più rappresentata nel Consiglio Comunale, non la pensa così il berlusconiano Luigi Miranda. Forza Italia a livello nazionale non è in crisi, perché tutti i sondaggi danno in costante crescita il brand di Forza Italia. Anche se poi i numeri sono bassissimi. Sì, rispetto però, se facciamo il raffronto rispetto a un anno fa, il trend è sempre in positivo. Questo naturalmente è perché la gente sta cominciando a vedere quali sono i disastri del governo Renzi, di un governo che sta letteralmente massacrando di tasse il nostro Paese, che non dà la possibilità alle imprese, alle libere professioni, ai liberi professionisti, agli imprenditori, a chi ha voglia di investire, di poterlo fare e di poter lavorare serenamente, che ha bloccato totalmente la crescita. E in Capitanata Miranda vede positivo. Foggia, Foggia, Forza Italia, le ultime elezioni regionali è nettamente il primo partito. Cioè, allora, al Comune e anche alle scorse elezioni del 2014, cioè laddove si lavora bene, laddove ci sono persone che si impegnano e che raccolgono ovviamente il consenso che è successivo all'impegno profuso, il partito va e va bene. Mattinata, senza soldi durante le ore notturne, disattivato il Postamat. Così come in Puglia e anche nella provincia della Lucania, anche nell'ufficio postale di mattinata, a termine del turno di apertura degli uffici, il distributore Postamat automatico di Banconote sarà svuotato e disattivato, per poi essere rifornito e reso disponibile solo all'apertura del turno successivo. La drastica decisione è stata presa a seguito dei continui e molteplici atti criminosi che sono avvenuti in queste ultime settimane. I danni dei Postamat, quindi, i clienti potranno soffrire del servizio di prelievo automatico e di Banconote solo nell'orario di apertura degli uffici postali. E oggi riprendono ancora i festeggiamenti per il Carnevale, giovedì divertendo quindi per grandi e piccini. Dopo il boom sold out della Golden Night della 63esima edizione del Carnevale di Manfredoni, alla festa continua con un giovedì ricco di appuntamenti sia per grandi che per piccini. Così oggi a partire dagli ore 15 con la Coppa Carnevale di Calcio, triangolare dei giovanissimi che vedrà scendere in campo presso gli impianti sportivi Salvemini, i talenti della Salvemini, del Foggia Calcio e della Fidelissandria. A seguire agli ore 18 presso il Teatro Giudalla, il tradizionale Veglioncino dei Bambini, giunto alla 56esima edizione. In contemporanea, presso la Casa di Riposo Stella Maesi di Siponto, la socia delle Pantere Grigie intratterrà con musica a cura anche dell'associazione Paser. Quindi il Carnevale continua, sempre in attesa della Notte Bianca, prevista per sabato 13 febbraio prossimo. E parliamo di sport e calcio. Il giudice sportivo ha decretato la squalifica per Daniele Bruno. Infatti il giudice sportivo di Serie D è squalificato per un turno, il difensore del Manfredoni a Daniele Bruno, a seguito dell'espulsione rimediata nella gara casalinga domenica scorso contro il Fondi. Quindi il difensore bianco-celeste salterà la sfida di domenica prossima a Pomigliano, valida per la 24esima giornata del campionato di Serie D Gironi H. E domenica prossima, proprio contro il Pomigliano, la gara si disputerà a porte chiuse. Squadra il Pomigliano che era partito bene a inizio campionato, ma poi negli ultimi risultati ed un modesto mercato invernale, l'hanno spinta fuori dalla zona play-off. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS